E' l'obbligatorietà del Green Pass che l'ha spinta? Eh sì, perché se no non si lavora, quasi obbligatorio. O c'è il Green Pass, lavori o stai a casa. Che cos'è che l'ha spinta ad aspettare così tanto? Ero in viaggio più che altro. Ero in viaggio, sì, sono appena che è tornato, quindi... Anche per il Green Pass? Esatto, e per il lavoro più che altro. L'effetto Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro si fa sentire naturalmente anche nel più grande hub vaccinale della Toscana, il Mandela Forum, che a fine mese dovrebbe chiudere i battenti e riaprire quelli tradizionali come luogo di ascolto, di musica e di altri eventi culturali e sportivi. Tante persone sono convinte che basti una dose per avere il Green Pass. Ricordiamo che ci vogliono almeno 14 giorni trascorsi dalla prima dose per avere il certificato verde. Giuseppe Malgeri, questo potrebbe essere l'ultimo giorno di Open Day per la vaccinazione in Toscana, nel hub più grande? Sì, stiamo aspettando per capire se la campagna dell'Open Day andrà avanti ulteriormente. Quello che abbiamo notato in questi giorni è comunque un incremento forte delle presenze all'interno della struttura, tanto da arrivare a numeri che sono molto simili a quelli che facevamo a luglio, quindi su oltre 2.800 vaccinazioni al giorno. Ieri abbiamo sfiorato le 3.000.